Dove va la Catalogna? Facciamo il punto, avevamo anticipato tutta la situazione del referendum, di tutte quelle che erano le tensioni nella comunità autonomica, ancora facente parte della Spagna, fino a prova contraria. Ne abbiamo parlato tante volte con il professor Guglielmo Cevolin, buonasera professore, che è stato nostro ospite gradito e anche stasera ci aiuta a fare un po' il punto su questa situazione. Io mi sono chiesto dove va, forse avevo anche già titolato così professore, ma dove va? Come facciamo a definirlo dopo le elezioni del 21 dicembre? Allora, le elezioni del 21 dicembre sono dopo il referendum sull'indipendenza del 1 ottobre e nessuno risultato immediato perché è stata una decisione... Che ribadiamolo è stato riconosciuto come illegale dal governo centrale. È stato dichiarato il referendum del 1 ottobre illegale dal Tribunale Costituzionale Spagnolo e poi il Tribunale Costituzionale Spagnolo l'ha invalidato totalmente e il governo ha addirittura applicato l'articolo 155 che in pratica è la cosiddetta esecuzione federale, diciamo negli stati federali, perché la Spagna è uno stato federo-regionalista, c'è una via di mezzo tra il regionalismo e il federalismo. E comunque anche negli stati federali c'è l'esecuzione federale, cioè quando una porzione del territorio, una regione, uno stato membro, un lender, quello che vogliamo, si ribella, non esegue il diritto dello Stato, lo Stato centrale, in Germania anche il Bund, per esempio anche nella Repubblica di Weimar c'era la stessa clausola e c'è anche nel Stato federale attuale della Germania, c'è la possibilità della cosiddetta esecuzione federale, cioè di prendere in mano dal punto di vista centrale alcuni compiti, alcune funzioni e di eseguirle direttamente dal centro, spodestando per certi versi il lender o lo Stato membro. Come in questo caso la comunità autonomica. Andiamo sulle notizie recenti e a proposito di questa possibilità è arrivata notizia ieri, che il Parlamento fa un nuovo, quindi l'organo assembleare catalano, fa un ricorso contro l'articolo 155, professore. Sì, perché ci sono dei problemi di illegittimità, perché è chiaro che l'articolo 155, che non era stato quasi mai usato, era stato ventilato un po' nei confronti dei baschi a un certo punto, ma nei primi anni 2000 diciamo, ma non era stato mai applicato, si deve applicare in una situazione di una gravità notevole. Questo è il principale forse motivo di ricorso, diciamo, cioè di una sorta di esagerazione che è stata fatta da parte del governo nell'applicare questo istituto che per certi versi... Perché si ritiene che la situazione non fosse così grave da fare riferimento a quello strumento. No, perché in effetti, da un punto di vista legale, era già stato inibito un po' quel referendum e non è che ci sarebbero state delle conseguenze, diciamo, gravissime, ecco, a celebrarlo liberamente, per esempio. Ecco, il problema è che è ovvio che la dichiarazione di indipendenza è un atto invece, diciamo, incostituzionale. E questo, da questo punto di vista, certo, è un... Però, ecco, anche qui, tutto sommato, la Generalitat aveva fatto questa dichiarazione, ma, per esempio, aveva fatto il voto segreto, se vi ricordate, cioè nella votazione per la dichiarazione di indipendenza, è stato fatto un voto segreto. Perché? Perché aveva paura della ripercussione del voto per i singoli parlamentari dal punto di vista della giustizia spagnola. Quindi voleva dire che, nonostante ci fosse questa dichiarazione di indipendenza, subito dopo la dichiarazione di indipendenza, comunque, ci sarebbe stata ancora una situazione giuridica spagnola, se uno ha paura e hanno fatto il voto segreto proprio per questo motivo. Ovviamente qualcuno anche, come si è visto, ha votato invece in maniera, ovviamente, sprezzante e facendo vedere che aveva votato sì, no? Che aveva votato a favore. Altri hanno invece votato in segreto. Però, ecco, il fatto di aver messo il voto segreto già faceva capire che era un voto... La questione fosse molto delicata. Era una questione formale, cioè siamo sempre al solito problema, cioè che i catalani sono stati portati lì. Purtroppo, qui io sono un giurista, da una sentenza della Corte Costituzionale estremamente criticabile, che è la sentenza del 2010, che ha bocciato la riforma dello Statuto di Autonomia che era già stata approvata anche dal Parlamento spagnolo. Certo, questa è stata più di una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa è stata la goccia... Diciamo che, allora, da un punto di vista anche di, possiamo dire, identitario, questa sentenza diceva che la Catalogna non è una nazione, infatti una delle prime manifestazioni, sem una nació, cioè non è il Tribunale Costituzionale che ci può dire che noi non siamo una nazione. Siamo una nazione o meno. Però anche qui il Tribunale Costituzionale fa un ragionamento che è un po', ha fatto un ragionamento arretrato, perché gli stati sono plurinazionali ormai, non si può dire alla Catalogna che non è una nazione, loro infatti hanno risposto, noi siamo una nazione millenaria. Alla Spagna di qualche secolo, noi rispondiamo con la Catalogna triunfal, con la Catalogna millenaria. Allora, questo... Ha fatto altro che alimentare, diciamo... Questo è l'elemento identitario. E sì, perché mi dici che non siamo una nazione, questo me lo dici, però il problema è me lo dice il Tribunale Costituzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo non è un elemento più di dialogo, non c'è più dialogo su questa questione. Ormai c'è una sentenza nella Corte Costituzionale, nel Tribunale Costituzionale, non c'è dialogo. Non c'è dialogo sulla cosa che interessa molto, e cioè sull'autonomia finanziaria, nel senso che l'autonomia finanziaria vogliono raggiungere l'autonomia che ha il Paese basco, cioè per esempio che le tasse si fermano in Catalogna e poi è la Catalogna che decide di dare la porzione allo Stato e non viceversa. E questo, siccome ce l'hanno i baschi, non si capisce perché è un livello di autonomia che non può essere in qualche modo raggiunto dalla Catalogna. C'è anche da dire però una cosa, che per esempio potrebbe essere raggiunto, queste cose si possono raggiungere, si potevano raggiungere con la riforma dello Statuto, ma ormai con lo Statuto non si può più, perché la sentenza ha già detto il verdetto e quindi non si può più. Con cose si potrebbe raggiungere? Si potrebbe raggiungere con un procedimento di revisione costituzionale, ma il procedimento di revisione costituzionale in Spagna è un procedimento difficilissimo, impossibile da raggiungere, perché prevede delle maggioranze qualificate, ma poi prevede lo scioglimento delle Camere, la rielezione del Parlamento e di nuovo delle maggioranze elevate. Quindi è praticamente lunghissimo. Non si siano mai verificati. No, 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 è inemendabile a questo punto, in particolare in una situazione di frammentazione politica che non riesce neanche a fare il governo in Spagna, perché stiamo parlando di una Spagna che in pratica ha un governo di minoranza, perché il Partito Popolare è al governo in minoranza con il sostegno, diciamo, astensionistico di altre forze. Di altre forze politiche. A proposito di risultati politici, professore di risultati elettorali, mi interessava vedere quale fosse il quadro emerso dalle elezioni in Catalogna del 21 dicembre. Il paradosso è che il partito che ha ottenuto più seggi, ne ha ottenuti 37 dei 135, che ha a disposizione in Assemblea, è un partito anti-autonomista. Il primo partito... Qua siamo sull'avanguardia, che ci dà dei risultati. Il primo partito... Il primo partito che non ha la maggioranza assoluta, ovviamente, è questo Ciutadans... Ciutadans, che è la versione catalana... Che è la versione catalana di Ciutadanos, no? Di Albert Rovira. Allora, che cosa è successo? Gli autonomisti, anzi, gli indipendentisti, autonomisti che sono diventati tutti poi indipendentisti, hanno ancora la maggioranza relativa. Perché? Perché, in pratica, tra il partito di Pugdemont, il partito di Eschera Repubblicana... Pugdemont è... Pugdemont è l'ex presidente della Generalità in esilio. Eletto in esilio. E lo vediamo qua... Eletto in esilio. Elettono in Giunz per Catalogna. Giunz per Catalogna, che era Giunz per il sì, per il sì al referendum. Poi ha pochi seggi, meno di Ciutadans. Sì, ne ha 34, e praticamente è una vittoria, comunque, di Pugdemont. Poi c'è Eschera Repubblicana, che ne ha 32, mi pare. Sì, eccoci qua. Eschera Repubblicana ne ha 32, sì. Ed è il partito storicamente più indipendentista, diciamo, perché, diciamo, che il partito di Pugdemont viene dal partito di Giordi Pugol, cioè di un partito democristiano, tutto sommato, liberali e democristiani uniti assieme. E infine c'è la CUP. C'è forte tradizione cattolica in Catalogna, ovviamente, no? Quindi... Eh sì, eh sì, c'era Giordi Pugol, che dal 1980, fino poi con anche diversi mandati, fino al 2002, mi pare, è anche stato per decine di anni Presidente della Generalità Giordi Pugol. Però il risultato comunque finale è che nel 2015, cioè nelle elezioni autonomiche, cioè regionali, diciamo, del 2015, gli indipendentisti avevano 72 parlamentari. Adesso ne hanno 70, quindi non c'è stato un grande cambiamento. C'è da dire che anche queste, come quelle del 2015, in pratica sono state elezioni plebiscitarie, in pratica solo sull'indipendenza. C'è da dire che, in realtà, però, ecco, nel Parlamento del 2015 c'era anche una parte che era Podemos, in pratica, Podem, catalana, che non era per l'indipendentismo, ma era per il diritto di decidere. Questo è il grande elemento. Cioè, in fondo, il 75% dei catalani rappresentato nel Parlamento era per votare. e per quello ha avuto una grande importanza il voto per il referendum. Allora, adesso, però, dobbiamo, prima di tutto, dire che cosa ne sarà dell'indipendenza, quindi dove va sotto questo versante la Catalonia. E' una ultima cosa, professore, le faccio vedere, sempre a proposito di cittadini, la dico all'italiana, quali sono stati i risultati della formazione politica nelle elezioni di quest'anno e in quelle di due anni fa. Ovviamente, laddove vedete una colorazione più intensa, ci sono risultati maggiori, più consistenti. Ma è una versione, questa, in pratica, indica le zone dove c'è una maggior critica, per certi versi, all'indipendentismo. E quindi, vedete, siamo a Barcellona, siamo a Tarragona. Barcellona e Tarragona, tant'è vero che in questi giorni stanno prendendo in giro, la chiamano Tabarnia, un nome così. Cioè, e anche poi sopra c'è la Val d'Aran. Ah, ok, questo spiega qua in alto. Esatto, esatto. L'unica cosa, da questo punto di vista, ovviamente bisogna tenere conto anche della concentrazione del demoscopico, cioè elettorale, no? Cioè, dei voti, ci sono più voti nelle grandi città, però nelle grandi città, tendenzialmente, c'è un voto di resistenza all'indipendentismo. E allora, cosa stavano dicendo? Come scherzo, facciamo la secessione di Tarragona e di Barcellona dalla Catalogna. Questa è uno scherzo. Ecco, un altro scherzo, un'altra vignetta simpatica. Ecco, questa è una vignetta che abbiamo recuperato grazie al suo aiuto. Ce la spieghi un attimo, professore? Allora, qui c'è la nave con il simbolo, ecco, lì in alto, ecco lì c'è il simbolo del gioco con le cinque frecce che è il simbolo di Iose Antonio Primo de Rivera e anche poi di Franco, ecco. Quindi affonda la nave del franchismo e tutti salgono su questo versante sì, ovviamente i topini è il popolo di destra perché allora in Italia per esempio c'era la rivista diretta da Marco Tarchi poi la voce della Fogna, i topi erano i fascisti, quindi i fascisti però li traghettano tutti nel Partito Popolare. Questo è vero perché il Partito Popolare è un partito che è un po' di più che la democrazia cristiana, cioè è un po' più a destra della democrazia cristiana. Quindi è vero che ci sono i franchisti. Per le posizioni sui temi legati al fine vita o a questioni di carattere religioso spesso. Per tante cose, per tante cose ma anche proprio per il richiamo a Franco, per il richiamo a questa tradizione unitaria della Spagna ma in versione anti-comunità, anti-autonomista per certi versi. e poi i topini però cosa succede? Siccome da un po' di tempo a questa parte il PP è in crisi, come è in crisi la democrazia rappresentativa in Europa e anche in Spagna perché c'è un modello ormai almeno tri-o quadripolare, quadripolare direi in Spagna perché c'è Podemos, Cittadanos, il Partito Socialista e il PP. quindi c'è un modello quadripolare che ovviamente impedisce ogni governo e allora è in estrema crisi la democrazia rappresentativa in Spagna e comunque si accusa in Catalogna i trasfoghi del Partito Popolare in Catalogna in particolare dove adesso il Partito Popolare fa tre parlamentari un disastro è stato in queste elezioni sono tutti passati a Cittadans vediamoli Meliero anche ovviamente segnati tra l'altro un attimo fermiamoci qua questa è la CUP e tra l'altro bellissimo perché c'è il mio amico Carles Rovira Carles Riera anzi Carles Riera Carles Riera che è stato uno dei il primo successore di Aurelio Gemini che è stato qua come presidente del SIEMEN ed è la CUP che la CUP è un partito iper anche autonomista ma anche di estremissima sinistra è un partito con una deriva di tipo un po' velezuelano mentre Argemi è un po' più espressione di un indipendentismo legato al cattolicesimo più legato al cattolicesimo perché lui è stato segretario della baltesca re poi era parente addirittura di Arthur Mas quindi con legami fortissimi con l'autonomismo eccoli qua li abbiamo trovati eccoli i reduci per un partito che ha dimensioni diciamo che nelle migliori occasioni vanno anche oltre il 30% è un paradosso è un disastro sono tre deputati se si possono chiamare così su 135 che cosa sta succedendo proprio in questi giorni questa mattina il premier Rajoy ha parlato con Albert Rovira cioè il leader nazionale cioè statale spagnolo perché invece in Catalogna c'è Ines Arimadas di Cittadans cioè ha detto attenzione chi è il primo partito in Catalogna sono questi Cittadans Cittadanos quindi io dialogo con faccio vedere che ho un'apertura per la Catalogna e dialogo con Albert Rovira ma su cosa anche in maniera abbastanza infida su questo versante per non è uscito molto bene da queste da queste elezioni eh Rajoy se possiamo dire Rajoy facciamo una valutazione politica Rajoy ne è venuto la vignetta fa cioè testimone sono stati sconfitti però però Rajoy cosa dice dice io mi affido al partito che ha la maggioranza relativa in Catalogna adesso e tra l'altro apro il dialogo proprio sulla questione fiscale quindi tra l'altro ha detto io sono pronto a dialogare per una revisione della distribuzione delle risorse economiche della tassazione in Catalogna di quelli che da noi sarebbero i decimi i decimi ecco però allora ragioniamo attenzione già il Tribunale Costituzionale Spagnolo ha messo dei paletti su questo versante quindi adesso andiamo avanti in teoria la cosa che può proporre realisticamente Rajoy è un aspetto di carattere diciamo una decisione di carattere governativo quindi amministrativo di ripartizione diversa dei fondi ecco che quindi per esempio ha una sorta di precarietà che si chiede adesso cosa succede ovviamente ecco qui allora il tentativo qual è di dare forza a cittadans e cittadanos per dire guardate che con cittadanos con cittadanos la Catalogna può ottenere l'autonomia finanziaria che non monterà mai con gli autonomisti e con gli indipendentisti quindi perverso però politicamente è ovvio è ovvio autonomisti indipendentisti lasciate la nave del di Pugermont e venite salite tutti anche qui sulla nave di cittadans quindi questo è il tentativo e però tuttavia a proposito di navi sempre per stare sul pezzo professore qua andiamo sull'ansa sullo speciale dedicato al Parlamento Europeo fatemi tornare con Pugdemont che dice fatemi tornare anche qui c'è un problema è sempre allora siamo continuiamo sempre all'assenza di dialogo al dialogo tra sordi allora qui siamo in uno Stato europeo del 2017 che ha applicato un regime d'eccezione mandando a casa un Parlamento regolarmente eletto mandando a casa un governo autonomico regolarmente eletto mandando le forze dell'ordine a pestare delle donne che andavano a votare facendo incarcerando i due giordi della società civile incarcerando i membri del governo facendo andare in esilio comunque con una parte in esilio del governo catalano adesso anche eletto perché Pugdemont è stato rieletto allora è una situazione diciamo da un punto di vista della democrazia per certi versi insostenibile come per certi versi veramente borderline da un punto di vista costituzionale è insostenibile la secessione cioè la autoproclamazione indipendentista di Pugdemont di Pugdemont è insostenibile dal punto di vista costituzionale quindi vediamo un dialogo da solo pensiamo che addirittura le prime tentative di applicazione all'articolo 155 della costituzione spagnola che dava i pieni poteri in Catalogna a un membro diciamo del governo nazionale statale che cosa che cosa voleva addirittura fare che lo dava al vice al vice premier alla vice presidente del del governo e voleva addirittura questa governare da Madrid addirittura non voleva neanche andare non voleva neanche andare non voleva neanche andare a così un po' troppo sì ecco questo per dire l'idea del dialogo tra sordi allora però il dialogo tra sordi sta continuando perché adesso c'è come potrà cambiare qualcosa le chiedo quest'ultima cosa questa cosa qui diciamo allora intanto sicuramente bisognerà consentire a Pugermont di tornare bisogna liberare Junqueras bisogna liberare il il vice presidente che è ancora in carcere bisogna far finire lo stato d'eccezione non si può applicare il diritto in questo modo così assurdo con l'applicazione della costituzione in maniera macista da parte di chi? di un tribunale costituzionale come ha fatto nel 2010 da parte del governo che applica come abbiamo detto in quel modo sia l'articolo 155 sia usa i poteri di polizia pesantissimi sia anche la magistratura anche i magistrati che hanno che hanno attivato i reati di sedizione di ribellione cioè nei confronti diciamo di leader della società civile o di o di leader eletti ecco è chiaro che qui siamo a un'applicazione del diritto esagerata estremista che non fa altro che creare danni perché come la sentenza del tribunale costituzionale ha creato danni così sta creando danni questa roba qua dall'altro lato sicuramente ecco deve essere concesso molto probabilmente la celebrazione di un vero e proprio referendum su il diritto di decidere su questo c'è poco da fare e sul diritto di decidere può emergere anche la soluzione federale cioè il passaggio di un diciamo di una proposta politica però anche qui dopo un eventuale referendum su un diritto di decidere celebrato democraticamente e legalmente dopo ci deve essere un passo anche qui alla politica cioè bisogna essere in grado di far avanzare la costituzione spagnola ma ma proprio sulla spinta di un risultato elettorale per un'opzione federale che dia maggiore autonomia più o meno però è la stessa cosa che mutatis mutandis sta succedendo in Italia perché in Italia grazie al referendum della Lombardia e del Veneto si sta parlando di modificare di dare attuazione alla costituzione che è già stata modificata nel 2001 ma che dal 2001 ai giorni nostri non è stata attuata l'articolo 116 cioè del riconoscimento di maggiore autonomia alle regioni ecco estremo a vedere però sulla base però sulla base vedete di un voto popolare certo quindi il voto popolare è sicuramente un passaggio che deve essere celebrata deve essere celebrata delle elezioni delle elezioni un referendum legale e con dei toni più bassi probabilmente si potrà arrivare a una soluzione di tipo federale cioè a riconoscere da un punto di vista costituzionale quelle cose che purtroppo il Tribunale Costituzionale non ha voluto riconoscere alla Catalogna non ha voluto riconoscere o ha riconosciuto diciamo con una sentenza che ha fatto parecchio discutere messo più in difficoltà che agevolato grazie professore di essere stato ancora una volta grazie a voi e per ogni aggiornamento noi vi racconteremo ancora quello che succede con Dovizia di particolare come facciamo sempre grazie a tutti e appuntamento alla prossima puntata di Viceversa